L'estate 2009 sarà per la Sardegna una stagione a rischio di incendi, ancor più che negli anni passati. Le frequenti piogge dell'inverno hanno fatto crescere a dismisura piante ed erbacce e servirà molta cautela e senso di responsabilità da parte di tutti, fa sapere l'assessorato regionale all'ambiente. In questi casi, oltre alla prevenzione da parte degli enti e gestori di strade, sarà indispensabile un atteggiamento corretto da parte di cittadini e turisti per evitare la nascita di focolai e per fronteggiare una situazione già compromessa.